Un cordiale saluto da Alex Aguarini di Trebimeteo. Nel corso di lunedì le alte pressioni si manterranno ben lontane dall'Europa e transiteranno quindi nuove perturbazioni atlantiche. Poche novità anche sul fronte delle temperature con clima sempre invernale sul versante orientale del continente e massime piumite invece sulla penisola iberica. Per quanto riguarda l'Italia il cielo sale regolarmente nuvoloso soprattutto al nord est e le regioni del centro sud con occasione per nuove precipitazioni mentre maggiori schiarite si avranno al nord ovest e il medio alto versante tirrenico. Vediamo ora le temperature minime che saranno in calo sulle nostre regioni centro settentrionali valori stazionari invece al sud mentre le massime non subiranno particolari variazioni da nord a sud della nostra penisola. Per quanto riguarda il dettaglio previsionale riferito al nord Italia assisteremo ad ampi spazi soleggiati in particolar modo sulle nostre regioni nord occidentali con cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi mentre dell'instabilità insisterà al nord est con piogge sparse su coste e pianure e nevicate sulle alpi orientali a partire dagli 800 mille metri. Al centro il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso specie sul versante adriatico e la dorsale appenninica con occasione per acquazione qualche temporale ed anche nevicate sui rilievi intorno ai 1000-1200 metri. Al sud maggiori schiarite si avranno invece su Campania e Molise mentre ancora delle nubi insisteranno altrove con il rischio di piogge sparse anche qualche temporale nel pomeriggio non escluso sull'Appennino mentre sulla Sardegna residui fenomeni diurni insisteranno lungo i rilievi montuosi. Con questo è tutto per aggiornamenti in tempo reale vi invito anche a scaricare l'applicazione Trebi Meteo su smartphone e tablet.